Un gioiello che non dovrebbe mai mancare nel portagioia di ogni donna, le boccole di diamanti. In questo caso 2,20 grammi per quanto riguarda l'oro bianco di 18 carati, 4 griffi in oro bianco che mantengono un totale di 46 punti, quindi quasi mezzo carato di diamante con taglio brillante.